Ben ritrovati da Pascolino Lettura per un nuovo appuntamento con i giornali in tv. Dunque le notizie che stiamo appunto leggendo dando così uno sguardo veloce sia sulla home page di Gazzetta del Sud e sia sul quotidiano del Sud, insomma tanto c'è sempre una questione che è sempre più di stretta attualità, lo sbarco dei migranti, sempre in continuo, non si ferma più questo sbarco di migranti e poi ci sono anche le questioni politiche che riguardano le varie città, tra cui la Mezzia, la Mezzia Terme, come appunto abbiamo già ricordato nelle precedenti edizioni dei giornali in tv, ci sono state le dimissioni del collegio dei revisori dei conti, prima del Presidente e poi degli altri due componenti e questo sta creando appunto tante polemiche politiche, li andremo a vedere, a leggere, non mancano purtroppo i fatti di cronaca delle ultime ore e poi oltre alla Mezzia c'è anche un altro comune della Calabria che sta, come dire, è interessato a questioni, a polemiche politiche, tensioni varie insomma, ed è quello di Vibo Valencia. E poi tante altre notizie, come dicevamo, naturalmente come sempre oltre a Gazzetta del Sud e al Quotidiano andremo anche a dare uno sguardo, anche un rapido sguardo alla Mettino.it e poi concluderemo con i titoli principali delle prime pagine dei quotidiani nazionali, oggi in edicola, è lo sport. Andiamo intanto a Gazzetta del Sud online dove leggiamo questa prima notizia sulla HOM, le mire sui lavori di bonifica a Crotone, un progetto fallito per timori di un'inchiesta di gratteri, scrive Gazzetta del Sud. Andando ad approfondire appunto questa notizia, il timore dell'esistenza di un'indagine della procura antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri contribuì a fermare le mire della presunta consorteria formata da imprenditori e politici che voleva rubare sui lavori di bonifica del sito di interesse nazionale di Crotone. Lo hanno accertato i carabinieri del nucleo operativo ecologico nell'informativa del 26 giugno del 2020 che è poi conflittata tra le carte dell'inchiesta glicine Acheronte della DDA di Catanzaro scattata a giugno scorso. Andiamo poi, dicevamo, delle questioni politiche che riguardano comuni, comuni importanti della Calabria, tra cui la mezza terme, ma anche Vibo su Gazzetta del Sud, leggiamo Vibo Valencia, i 5 Stelle non staccheranno la spina alla sindaco Limardo, scrive il quotidiano web Gazzetta del Sud. Poi sulla mezza terme c'è stato un incidente nelle ultime ore, un'auto si ribalta dopo uno scontro, c'è stato un uomo ferito, poi Tropea, a proposito di feriti, c'è stato un altro ferito, a Tropea, ferito dall'elica mentre sale in barca, un 22enne è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale, questo 22enne ferito appunto da questa elica della sua barca. E dicevamo dello sbarco di migranti, nuovo sbarco a Crotone, altri 27 migranti approdano sulla costa. E ancora i genitori di Fedez, passando a una notizia completamente diversa, i genitori di Fedez in vacanza a Capovaticano, tra bellezze del territorio ed enogastronomia. Ancora un dramma a Crotone, un bambino di 4 anni rischia di annegare in piscina, ricoverato in terapia intensiva a Catanzaro. L'Italia di Vannacci, il mondo al contrario, parte della Calabria con una iniziativa alla mezza. Poi reddito di cittadinanza, gli invisibili di Catanzaro finiti nel limbo tra servizi sociali e centri per l'impiego. E ancora, la notizia diversa, le spiagge più belle della Costa degli Dei, a Baia di Riacci, tra tuffi ed immersioni da favola. Dicevamo, nel fatto dei revisori dei conti del Comune della Mezzaterme, Gazzetta scrive quanto già era noto, e cioè che hanno lasciato altri due componenti del collegio dei revisori dei conti. A Crotone, le migrazioni nel centro-destra agitano il clima, ma voce è impassibile. A San Nicola da Crissa, dopo 5 anni, si parla di messa in sicurezza della ex statale 110. Guardia Costiere, dicevamo, sbarco di migranti. La Guardia Costiere soccorre 53 migranti portati a Crotone, appena sbarcati, hanno baciato la terra. Vibo Valencia, la denuncia dell'associazione Argo, giovani uccidono animali nei pressi della scuola Garibaldi. E ancora la Ocean Viking viaggia verso Genova, ma farà prima tappa in Calabria. Vibo accoglierà alcuni dei 439 naufraghi a bordo. Questo era sulla HOM di Gazzetta del Sud, con cui abbiamo iniziato questo nuovo appuntamento con i giornali in tv. Restando online andiamo a lamettino.it, come è detto, edilizia sanitaria, la Regione adotta il nuovo piano programmatico, investimenti anche all'ospedale di Lamesa. lo scontro alla mezza su via Leonardo da Vinci. Nelle ultime ore una delle due auto si è ribaltata, una persona è ferita. E dopo il... passando ad un'altra notizia, parlando ancora del caldo torrido, dopo un weekend di caldo torrido, in arrivo il ciclone Poppea, pioggia e temperature in calo anche in Calabria. Anche qui il Guardia Costiere soccorre i migranti sulle coste calabrese, due sbarchi in poche ore. Poi da Lamezia a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù, il nostro viaggio di fede e gioia. E ancora cinque ore di ritardo per voli Milano-Lamezia, ritorno, disagi per i passeggeri, migranti, occhiuto, annuncia, contributi a famiglie più povere, se assistono minori non accompagnati. Poi c'è quest'altra notizia, basta mozziconi a terra, riserva vallicupe a sostegno della campagna del servizio civile digitale del comune di Sersale. Fede e tradizione, madonna della quercia a conflenti, c'è stata la tradizionale processione per le vie del paese, per la madonna di conflenti. Bene, andiamo ora alla prima del quotidiano del Sud che apre con questa notizia sulla prima. L'estate 2023 sarà ricordata per i rincari, pacchetti vacanze non veritieri, costi di lidi e ristoranti alle stelle e problemi a carburanti, un bilancio di feder consumatori e le coste per l'associazione Mare Pulito, segnalazioni diminuite in alta stagione. Anche qui sul quotidiano dicevamo migranti, tre sbarchi in poche ore, due a Prodi a Crotone e uno a Vibo Valencia. Gioia Tauro, il porto segna il record di carico su una singola nave, il rapporto tempi di pagamento dei comuni in Calabria, tutti fuori limite. Poi sanità, fatture e fornitori, l'ASP di Catanzaro liquida oltre 1,8 milioni all'edit per il 2023. Poi Ciro Marina rischiava di annegare, anche qui leggiamo questa tragica notizia, un bimbo trasferito a Cosenza in coma farmacologico. E poi Crotone, la denuncia della federazione dei lavoratori della conoscenza della CGL, insomma dei docenti, il territorio ha perso 462 alunni. Poi Vibo Valencia, 5 Stelle contro la giunta Limardo, 4 anni di promesse, Reggio Calabria, discarico e emergenza ambientale, Castorina, nuova terra dei fuochi. Catanzaro, via le procedure per i posti letto sull'emergenza urgenza. E poi abbiamo questa notizia che arriva da Reggio Calabria, caso randaggi tra sadismo e abbandono. A Scilla, l'antica chiesa baracca sarà riaperta al culto, poi per i bonus edilizi la proposta per l'acquisto dei crediti. leggiamo appunto dalle pagine del Quotidiano del Sud, poi non mancano le notizie che riguardano il mare sporco. Nell'alta stagione, segnalazione in calo, dice il Presidente dell'Associazione Ambientalista, Ruvio. Poi a Belvedere Marittima, prima il caffè, ora il lettino sospeso. Ecco la mia iniziativa di solidarietà, le parole di un agente immobiliare. Poi il battello ecologico per noi prezioso, il Comune di San Ferdinando in provincia di Reggio. L'attività continuerà pure in inverno, perché il Comune ha messo a punto dei battelli per pulire il mare. Bilanci d'agosto, la ricorderemo come l'estate del caro benzina, dice Iannello, della Feder Consumatori. Mercoledì, e dicevamo, in Italia arriva il ciclone Poppea ora. Mercoledì, previsti temporali, ultimi giorni di vacanza, rovinati appunto dal ciclone Poppea, che appunto porterà temperature che si abbasseranno di molto, si parla di circa 10 gradi, e anche di forti temporali. Ciro Marina, rischiava di annegare questo grave fatto, è grave, insomma, di un bimbo di 4 anni, che ora è in terapia intensiva all'ospedale Pugliese, che è stato trasferito dal Pugliese Ciaccio a Cosenza, dal Pugliese Ciaccio di Catanzara a Cosenza. Il piccolo si trova nella terapia intensiva dell'annunziata, la famiglia era in vacanza a Ciro Marina. Bonus edilizi, acquisto crediti, ecco la proposta. i consiglieri regionali della Lega depositano il provvedimento, la regione intervenga tramite gli enti pubblici economici o le partecipate, scrive appunto il quotidiano del Sud. Partito Democratico, quindi parliamo di politica, a Vibo Valencia, arriva a Schlein per la festa dell'unità, la segretaria nazionale è attesa domenica a 3 settembre alle 19.30 a Vibo Valencia, Gioia Tauro, il porto dei record sulla MSC, Nicola Mastro caricati 9.500 container pari a 17.008 teus, un lavoro per singola nave che supera tutti i risultati mai raggiunti nei porti italiani. Poi il report tempi di pagamento dei comuni calabresi, nessuno rispetta i tempi, lo dice il Centro Studi Enti Locali, dicevamo del doppio sbarco in poche ore di migranti a Crotone, poi a Vibo ne sono arrivati altri 189, sulla nave Ocean Viking, sono stati effettuati dei soccorsi dai medici dell'ASP Fibonese e dai volontari. A causa del maltempo al nord, parte dei migranti sono stati dirottati in Calabria. L'ASP di Catanzaro, intanto scrive il quotidiano del sud, liquida 1,8 milioni di fatture del 2023, la procedura di allenamento avviata pochi giorni fa, verifiche in corso sugli anni precedenti. Dai vari territori, parliamo di sanità a Catanzaro, posti letto per l'emergenza urgenza, il commissario straordinario dell'azienda d'Ulbecco avvia le procedure e ancora la Lega a Catanzaro difende Riccio, il cambiamento non si occupa dell'amministrazione, quindi ancora polemiche. Poi sulla Mezzia, a proposito di polemiche e di tensioni politiche all'interno anche della maggioranza del Consiglio Comunale, un grave silenzio del Sindaco, Lucia Cittadino e Eugenio Guarasci, consigliere comunale del gruppo consigliare a Nuova Era della Messia ritengono, hanno sostenuto, insomma, hanno dichiarato di aver appreso solo sulla stampa delle dimissioni del Collegio dei Revisori dei Conti del Sarro di Forza Italia e i cittadini si chiedono quali obiettivi siano stati realizzati dall'amministrazione Mascaro, i consiglieri comunali dunque pare che non siano stati informati tempestivamente dalle dimissioni del Collegio dei Revisori dei Conti, non sono stati informati da parte del Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Nicodera che svolge un compito di garanzia istituzionale, anzi, avrebbero appreso delle dimissioni prima del Presidente e poi degli altri componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e lo avrebbero appreso solo sulla stampa. Intanto sulla questione interviene anche l'ex Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Francesco Grandinetti i Revisori vanno ascoltati dice Grandinetti che si esprime sulle ultime vicende comunali l'importanza del parere dei tecnici specialmente se non concordi perché in effetti tutto nasce dal parere negativo che i Revisori dei Conti del Comune della Mesa Terme hanno espresso circa il bilancio di previsione che deve essere approvato entro il 15 settembre dopo questo parere negativo c'è stato un Consiglio Comunale il 4 agosto scorso e lì veramente ci sono state molte polemiche tensioni in aula e poi in queste ultime ore sono arrivate le dimissioni da parte dei Revisori dei Conti che hanno parlato di violenti attacchi da parte di esponenti della maggioranza la denuncia raccolta differenziata troppi disservizi ma arriverà la Tari a dichiararlo Massimo Cristiano già consigliere comunale di la Mezzia Terme alla Mezzia c'è una scuola all'istituto comprensivo in questo caso Manzoni Augruso in totale sicurezza scrive il quotidiano del sud anche dal punto di vista ambientale l'ARPACAL la ritiene priva di pericoli l'istituto Manzoni comprensivo Manzoni Augruso l'istituto comprensivo Manzoni Augruso è stato scelto dall'ASP Spisal di Catanzaro come sede per il Radon Day a San Pietro Postolo Bartoletti e Scansi tra i premiati al Cherasion consegnati riconoscimenti appunto ai due giornalisti Marino Bartoletti e Andrea Scansi al Pemio Cherasion di San Pietro Postolo e alla Mezzia c'è stato uno scontro stradale anche che una vettura si ribalta ferito il conducente questo scontro si è verificato in via Leonardo da Vinci alla Mezzia Crotone il territorio ha perso 462 lunni la denuncia del responsabile dell'ufficio della Federazione lavoratore della conoscenza della CGL che chiede di intervenire questo era su Crotone rifiuti emergenza ambientale a Reggio una nuova terra dei fuochi dice Castorina secondo il quale non bastano più interventi straordinari quindi grave denuncia appunto per quanto riguarda i rifiuti a Reggio Calabria Vimbo Santoro del Movimento 5 Stelle sulla giunta Limardo dice in 4 anni solo promesse non devono avere alcun alibi per l'esponente pentastellato si deve comunque concludere il mandato la denuncia a Vimbo piccoli animali uccisi da un gruppo di ragazzini al comune di Vimbo al bando ai progetti del PNRR lotta alla criminalità espulsi soggetti pericolosi da parte del questore provvedimenti da parte del questore di Vimbo a Tropea un progetto moderno e suggestivo un nuovo landmark tra architettura e paesaggio per l'area antistante il porto di Tropea lo studio schiavello Actex ha ideato la riqualificazione urbana e architettonica questo era sempre sullo comune di Tropea andiamo ancora come leggevamo anche in altre pagine a Tropea una giovane gravamente ferita dall'elica di una barca a Tropea ancora un premio per Amelia scrive il quotidiano del sud poi c'è sempre la pagina dedicata a tutti gli appuntamenti estivi che ci sono in Calabria dove c'è il sole di Gigi D'Alessio pronto al suo quarto sold out al Rocella Summer con il concerto di Gigi D'Alessio questo scrive il quotidiano del sud tra poco andremo anche a dare uno sguardo ai principali titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola poi chiaramente stiamo vedendo appunto ci sono molte molte pagine sul quotidiano del sud dedicate allo sport ci torneremo appunto tra poco quando appunto concluderemo il nostro appuntamento con lo sport torneremo anche con le pagine del quotidiano del sud ora andiamo dicevamo dunque per la parte finale iniziamo questa parte finale con i principali titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali partendo come sempre dal Corriere della Sera Manovra Misure Scintille La Repubblica Migranti Salvini All'attacco La Stampa Boom di appalti nei comuni Rischio Stop Senza Fondi PNRR Libero Intervista a Piantedosi Ministro dell'Interno Migranti Cosa faremo Il giornale Il governo fa il pieno aiuti per la benzina Il fatto quotidiano Salvini sommerso dai migranti annuncia un decreto fuffa la verità l'ex ministro della difesa vannacci punito per le denunce sull'uranio il tempo tutto esaurito emergenza migranti il messaggero lotta della violenza di genere arrivano lezioni in classe su domani senatori e dranchetisti ecco il veneto fascio leghista scrive il quotidiano domani andiamo anche al quotidiano del sud l'altra voce dell'Italia governo Meloni neutralizzare le mine che si è messo da solo sul suo cammino scrive il quotidiano del sud l'altra voce dell'Italia bene andiamo ora alle pagine dello sport tanto sport campionato di serie A soprattutto nelle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola Gazzetta dello Sport Furia Max Juve soltanto pari con Bologna Lira di Allegri poi gol in arrivo per la Roma intanto Lukaku mentre appunto c'è anche un altro acquisto del Milan Taremi appunto pronto per il Milan proposito di sede del campionato di serie A il Garcia vola Sarri a zero quindi Napoli che vince la seconda partita consecutiva la Lazio che perde ancora dopo due partite a zero punti questo era su Gazzetta dello Sport poi sul Corriere dello Sport niente di bello Juve Bologna arbitro e VAR disastrosi Osimene di Lorenzo il Napoli Vola Aurelio De Laurenze regala a Garzia gioiello Lindstrom Mancini da rabbia quindi l'ormai ex tecnico CT della Nazionale va a fare il CT dell'Arabia Saudita poi su Codello Sport il giorno di Big Rom fumata bianca per l'arrivo di Lukaku alla Roma Retegui mette nei guai la Lazio l'attaccante Retegui che gioca anche in nazionale con il suo gol il Genova ha vinto con la Lazio 1 a 0 tutto sport meno male che Diusan c'è Vlaovic appunto toglie dai guai la Juve contro un'ottima Bologna due reti in due partite per Vlaovic scrive ricorda il quotidiano tutto sport oggi nell'edizione appunto di oggi che noi abbiamo anche letto qui il nostro appuntamento con i giornali in tv quotidiano sportivo QS Mancini Arabo a peso d'oro sarà il CT appunto degli Sheik in Italia trattato come un mostro poi Formula 1 Max Festappen fa festa anche in Olanda il Cavallino sbaglia ai box Cavallino ovviamente facendo riferimento alla Ferrari che ha deluso ancora una volta anche al Gran Premio d'Olanda andiamo allo sport del quotidiano del sud questo è già questo è già un Super Napoli scrive il quotidiano del sud Simen su Penalti di Lorenzo piegano la resistenza del Sassuolo superiorità schiacciante dei Partonopei giornata sfortunata per Raspadori palo pieno e calcio di rigore sbagliato la Lazio non si rialza il Genoa espugna l'Olimpico corre Tegui il Bologna corre ma la Juve lo riprende vantaggio ospite con Fergoso e il Pari e di Vlaovic nel finale 2-2 tra Fiorentina e Lecce andiamo alle squadre calabresi in serie B Catanzaro vittore di rigore battuta la Tenana 2-1 decido un penalty di Van de Putt nel finale nel primo tempo un gol per parte a Biasci aveva risposto Raimondo e DS Magalini del Catanzaro lavora per un difensore e per sfoltire la rosa poi serie B Cosenza Meroni disponibile Caserta può contare anche su Viviani poi Mercato oltre all'attaccante serve un po' più di esperienza sugli esterni Regina ancora 24 ore per conoscere il suo destino dita incrociate per la decisione del Consiglio di Stato Crotone serie C pronti 4 colpi per rinforzare la rosa sono Leo Vutailo Iacone Laribbi Formula 1 Gran Pembe d'Olanda Festappen immenso Ferrari in chiaroscuro Atletica Leggera 4 per 400 l'Italia chiude con due settimi posti Coppa Italia di serie D La Gioiese Brilla con Matteucci San Luca 0 Gioiese 2 poi Coppa Italia di serie D Castrovillari la prima è un K con il Rotonda Castrovillari 0 Rotonda 1 La Mezzia amichevole della Mezzia 6 reti al Campora in attesa della Coppa Italia di domenica 3 settembre al Dipolito alle ore 15 contro i Locri dopo il Crotone di Cittanova altro test dunque che hanno tenuto il giallo blu e poi ancora Vigor Lamezzia prova di forza gara disputata a Roccoriga è chiusa virtualmente nella prima frazione prestazione di spessore dei Biancoverdi la Mantea va a K.O doppietta per Bernardi Vigor Lamezzia che vince 4-1 con la Mantea nella Coppa Italia di Lettanti quindi poi il Cittanova inizia con 4 reti al Melicunco Cittanova vince 4-1 a Melicunco nelle altre partite della Coppa Italia a Lettanti poi a proposito di sport abbiamo anche tornando alle pagine di Lamezzia che abbiamo anche delle notizie di sport che riguardano due realtà sportive lamettine che si stanno facendo valere negli ultimi tempi sono fatto valere quindi parliamo intanto della Royal Team Lamezzia che è il calcio 5 femminile che disputerà il massimo campionato la Serie A riunione allenamento e tanto lavoro riparte la stagione il 24 agosto è partita la nuova stagione per la Royal Team Lamezzia giocatrice alleatore staff tecnica e dirigenza si sono ritrovati per una prima riunione il presidente Mazzocca e la dirigenza hanno illustrato i piani della società quindi ricordiamo che appunto intanto c'è entusiasmo per le ragazze che hanno iniziato sul lungomare Falcone Borsellino i primi allenamenti e poi altri allenamenti al parco impastato sempre di Lamezzia poi dicevamo anche infatti Nero Verdi la squadra di Lice R Lamezzia prepara il nuovo campionato diciamo di Serie C2 calcio a 5 dopo che la scorsa stagione Lice R Lamezzia come dire ha ottenuto buoni risultati la squadra Nero Verdi e continuando appunto a leggere questa notizia sul quotidiano del sud dicevamo il presidente del Lice R Lamezzia Elio Pellegrino presenta la nuova stagione dicendo sono molto orgoglioso dei risultati dello scorso anno ma ancora di più dell'attaccamento che hanno dimostrato i nostri ragazzi che nonostante le difficoltà insomma arrivate e soprattutto nonostante i calciatori hanno avuto richieste da categorie superiori hanno deciso di dare continuità al nostro progetto che fin qui si è dimostrato vincente in merito al settore giovanile Fiore Locchiello vero obiettivo dell'ICR continueremo a migliorare il nostro operato dimostrando con fatti tangibili e concreti di puntare sui giovani validi e lamettini in piena linea con la politica societaria dice il presidente dell'ICR Lamezzia calcio a 5 serie C2 quindi dopo aver parlato del calcio a 5 serie A massima serie femminile della Royal Team Lamezzia ora abbiamo parlato del calcio a 5 dell'ICR Lamezzia che gioca in C2 ma ricordiamo che c'è anche un'altra realtà la metina importante la Lamezzia Soccer che è Lamezzia Soccer che disputerà il campionato di serie A2 di calcio a 5 gli Orange le Panthere Orange hanno vinto il campionato l'anno scorso e quindi dovrebbero giocare appunto vediamo se avremo notizie quando ci sarà appunto la formalizzazione dell'iscrizione della Lamezzia Soccer che disputerà è stata promossa nel campionato di serie A2 di calcio a 5 maschile quindi tanti tanti appuntamenti attendono le realtà sportive la mattina dalla calcio a 11 a 5 anche ad altri sport come il basket come la pallavolo e tanti altri sport con lo sport dunque siamo arrivati alla conclusione anche per oggi del nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv come sempre ogni giorno con voi sui canali 94 e 98 digitali terrestre ma anche sulle nostre pagine sui nostri social di STV potete seguire tutti i nostri appuntamenti da Pasqualino Rettura è tutto grazie per averci seguito fin qui naturalmente con i giornali tv vi diamo appuntamento alla prossima edizione grazie